. Chi è che mi ha spinto? Io te salgo. Tu non ho detto altro, said Balderino. Quali siete le campionate? Fa un altro che è Dai ripartiamo Dai raga ripartiamo Dai raga ripartiamo Dai raga ripartiamo Si 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 Mica raga state attenti che non si riparte eh Dicevano Per fortuna Oh bella torpiga Dai tutti i box Non ripartiamo Facciamo prima dei box Ah va bing va bing va bing Oh lui dice che gli piace a Lucas Ci gli funziona quindi ora vediamo Ci gli funziona Dice che gli funziona Ma secondo me lui non ha i danni attivi Come? Cama? Oh sapete come si chiama il mio setup? No no L'ho interessutissimo Setup a cazzo E non diciamo parolacce E lui è subito Ballone sarà Prima o poi che cazzo Finchia Ma perché si sta Mi sei pazziato qui Va che non avevo il semaforo Ripartiamo Va che non avevo il semaforo No Non l'ho visto No Minchia 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 hai salvato il ballone da una figura di merda Hai salvato il ballone da una figura di merda E dille un'altra volta Indiretta Io sono partito 5 secondi dopo Esatto io ti ho dovuto schivare se no ti inculavo male Non inculare la FAO La FAO va inculare non nemmeno inculare What? What? Tutti Tutti a fuori Tutti a fuori Tutti a fuori Tutti a fuori E' bello che sono fatte Tutti a se buttare in live Sì brazo No 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 Dai ragazzi però porca la puttana No Gianfranco è rimasto bene No andate andate ragazzi dai No non c'è semaforo Non lo vedo ragazzi No non vedi semaforo Gianfranco No No è impossibile Eh È impossibile Ti faccio un video E tu si Vai via Eh 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 No vabbè Non è ferro L'ho vista le prime due partenze e dopo basta Ma neanche quello proprio della pista vedi Gianfranco No quello della pista si vede benissimo Io non lo posso vedere che posso fare il replay No quello della pista Ah 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 Però adesso spiegherò Ah ok Però quello sopra Che esce No vabbè cos'è la milleniglia Adesso si fanno l'altro Però fino ad adesso lo vedo Ora gli origini dove sono i semafori No Tanto se In teoria prova a guardare tutto il tabellone della pista Siamo la pori Rivedi? 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 Adesso si accendono Un attimo Quattro Tre Ok Rivedi già No Vai Vai Dov'è occhio? Eh occhio non lo devi dire Ti voglio arrivare a cammora Oh Ecco Indiro con gli altri due dietro Siamo tutti No 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 Non te lo faccio, vuoi tranquillino Raga ripartiamo, per favore Che credi? Hai lo super stop più veloce, però qua funziona Ma ri... Oh ma... Perchè? Perchè? Che cazzo stai dicendo? Non so se c'è fuori Io ho dovuto ritardare La tua parte mi ha accettato E lo subito Ma io gli stai ritornando a parte Perchè lo subito Sì, dopo che il quattro mi era spazio Non tolgo, non tolgo Non tolgo Tanto mamma calma Raga ripartiamo, per favore Oh ma che cacchio Oh ma che cacchio Rivada, rivada Ok, calma il sangue freddo Porca puttana Comunque non li vedevo se non lo fero ancora Prova adesso che sei entrato dove hai scelto Rifatti Sì Marco tu fai Pa 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 Io e Ivan facciamo ciao 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 Sì ma... Tu e Ivan partite con la SS Quindi... Beh c'è il Schultz Schultz Staffen Eh Marco? Ah? Partiamo con la Schultz Staffen? Cazzo che ti frega Non so neanche che cosa sono Non ci sono Adesso lo vedo Adesso lo vedo Oh ma ti ringrazio Con il bronca Nervή Non so緩i Verggiungi Per direcciò Cazato Samia ázata Vagta da quando c'è la skin di cabello e merlano me ne succedono tutti i colori basta buonanotte due vetture bianche a buona gara solo tra io e nel lorenzo se capire